In chiesta a mostre, la procura di Castrovilla riscrive sul registro degli indagati 195 persone e il fascicolo sull'alluvione che ha disastrato Rossano. Tra gli amministratori pubblici coinvolti, Oliverio e Occhiuto, sequestrati terreni, piazze, case, perfino interi condomini. Affare comune a Palizzi nella Locride, le casse del municipio usate come banco, ma in arresto il sindaco e due consiglieri comunali, dai rimborsi gonfiati fino al business dei migranti nell'indagine condotta dai carabinieri. Killer a giudizio, stamani in Corte d'Assise è la prima udienza del processo a carico del presunto assassino di Giuseppe Parretta. Ieri sera a Corigliano fiaccole accese per invocare la certezza della pena. I guai della Lega, la Cassazione che congela i 49 milioni oggetto della truffa sui rimborsi elettorali e le traversie giudiziarie del carroccio, iniziate grazie al procuratore Lombardo e alla Dia di Reggio. Sul filone calabrese si torna ad indagare. Verso l'autorecupero, la Giunta regionale si riunisce in seduta straordinaria e approva il disegno di legge sull'autorecupero degli immobili abbandonati da assegnare ai senza casa. Il provvedimento adesso deve essere approvato dal Consiglio. Buon poveriggio ai tre ispettatori di LACI. Dunque questi principali fatti del giorno. In apertura c'è la cronaca. È un'inchiesta enorme. Quella condotta dalla procura di Castrovillari sull'alluvione di Rossano. Pensate sul registro degli indagati anche il governatore Mario Liverio e il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Entrambi già presidenti della provincia Bruzia. Arriva a compimento il lavoro di indagine della magistratura a seguito dell'alluvione che l'11 agosto 2015 interessò Corigliano e Rossano provocando innumerevoli danni e per fortuna nessuna vittima. Si chiama Flumen Luto ed è la maxioperazione scattata stamani all'alba nella grande città della Siberitide coordinata dalla procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Eugenio Facciolla e condotta dai carabinieri forestali del gruppo di Cosenza con il supporto dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valencia. Tra gli indagati risultano anche il presidente della regione Mario Oliverio ed il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, quali ex presidenti della provincia di Cosenza. Oltre 130 ai militari impiegati nell'intervento che hanno posto i sigilli agli immobili individuati dalla magistratura e che sarebbero stati al centro degli eventi alluvionali che hanno investito la città tre anni addietro. Vasta la perlustrazione degli elicotteri che hanno sorvolato sul territorio di Corigliano-Rossano e lungo il prospicente litorale ionico. Non solo Oliverio e Occhiuto nell'operazione Flumen Luto sono indagate ben 195 persone tra cui ex ed attuali amministratori e anche dipendenti di regione, provincia e dei due ex comuni di Corigliano-Rossano e poi ancora imprenditori edite. L'indagine ha portato al sequestro di cento tra terreni agricoli e fabbricati che sorgono in aree a rischio idrogeologico e addirittura negli alvei dei fiumi. I dettagli dell'operazione saranno illustrati domani alle 11 in una conferenza stampa nella sede del gruppo Carabinieri Forestali di Cosenza. Da Rossano per la Cineus 24. In attesa della conferenza stampa di domani il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla ha spiegato all'Agi che i sequestri di questa maxi-operazione hanno interessato terreni, fabbricati, interi condomini, servizi commerciali e anche piazze. A Corigliano, dice il magistrato, c'è una piazza che è completamente abusiva, fatta in spregio al territorio. Hanno costruito nel fiume, hanno chiuso un intero alveo di 16 metri, riducendolo a 2 metri per fare piazze e palazzi, favorendo certamente qualcuno. Il territorio è stato violentato ed è venuto a galla questa situazione proprio per i danni che ci sono stati, conclude Facciolla, e mi spiace dirlo, l'alluvione è stata l'occasione per evidenziare quello che è stato fatto o non fatto negli anni. Proseguiamo con la cronaca. Le casse comunali utilizzate come bancomat, i fondi per i progetti per le tartarughe caretta caretta finiti a finanziare il Festival del Cinema. Per la procura di Locri il sindaco di Palizzi, Arturo Walter Scerbo, utilizzava illecitamente i soldi pubblici. Con lui nell'inchiesta Affare Comune sono finite ad omicidare i altri due consiglieri comunali. In manette il titolare di un bar ricevitoria. Fra i business illeciti anche la gestione dell'accoglienza ai migranti. Mandati di pagamento ingiustificati per prestazione mai rese, indebiti rimborsi per missioni, trasferte e pranzi, pagamenti in favore di ditte compiacenti per lavori mai eseguiti. Ed ancora, indebito utilizzo di impscardi intestate a dipendenti occasionali del Comune, sottrazione e distrazione di fondi dell'Unione Europea, destinate al progetto Life Caretta ed utilizzate, ad esempio, per un festival internazionale del film. Sono solo alcune delle condotte contestate della Procura della Repubblica di Locri nei confronti di amministratori, dirigenti e dipendenti del Comune di Palizzi, finito al centro di un terremoto giudiziario. Il GIP, infatti, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del sindaco Arturo Walter Scerbo, del consigliere di maggioranza Antonino Proietto e di un altro consigliere non ancora rintracciato. In carcere, invece, è finito Luigi Palumbo, titolare di un bar ricevitoria. 21 complessivamente le persone indagate, 80 i capi di imputazione contestati. Le accuse vanno dall'abuso d'ufficio al peculato, dalla concussione tentata alla corruzione, falsità ideologica e tentata truffa allo Stato per un danno totale di oltre 340 mila euro. Le indagini hanno accertato, come l'allora vicesindaco Davide Plutino, anche gli indagato, ma non sottoposta misura, si sia appropriato indebitamente di oltre 98 mila euro, quasi interamente destinati al gioco d'azzardo online. Sono state proprio le dichiarazioni di Plutino a dare i primi riscontri alle indagini dei carabinieri. Gli amministratori avrebbero anche lucrato sulla gestione dell'emergenza migranti. Il comune di Palizzi, infatti, nel marzo 2016, allestì un centro di accoglienza, ospitando circa 100 extracomunitari, un'iniziativa di cui il sindaco Scerbo si vantò anche durante la trasmissione Porta a Porta. In realtà i militari hanno accertato che in quel centro fu impiegato abusivamente personale mai contrattualizzato o retribuito. Anche le fatture presentate in prefettura per i rimborsi furono gonfiate. Il numero dei pasti veniva stabilito in misura sovrabbondante rispetto alle esigenze ed affidato arbitrariamente al ristorante di proprietà del consigliere di maggioranza Antonino Proietto. Consolato Minniti per la CNews24. Le indagini sono in corso, c'è stata questa operazione di polizia giudiziaria, una volta che mi verranno trasmessi gli atti verificheremo e ovviamente di conseguenza agiremo. C'è un sindaco che mi risulta, da quello che leggo sulla stampa che è stato arrestato, due consiglieri comunali che sono stati arrestati, vediamo innanzitutto capire ciò che è accaduto dalle carte ovviamente, da ciò che dicono i provvedimenti, per provvedere agli edemimenti di competenza prefettizia. Questa mattina in Corte d'Assisi a Catanzaro l'avvio del processo al presunto omicida di Giuseppe Parretta, il giovanissimo di Crotone assassinato in maniera tanto folle quanto inaccettabile. I servizi sono di Rossella Galati e Giuseppe Laratta. Cosa si aspetta oggi dal processo? Mi aspetto una giustizia importante, giusta, severa, che pensi alle famiglie, al dolore dei familiari. È giusto che io viva la mia vita raccontando la sua storia e facendo giustizia a tutti i ragazzi delle famiglie italiane. Katia Villirillo, la mamma di Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso nel centro storico di Crotone lo scorso 13 gennaio davanti alla sua famiglia, chiede giustizia per suo figlio e arriva al tribunale di Catanzaro con il nome di Giuseppe tatuato sul cuore per la prima audienza del processo davanti alla Corte d'Assise accompagnata da amici e parenti, con il sorriso di Giuseppe sulle magliette. Loro, dice, non mi hanno mai lasciata sola, dallo Stato invece si è sentita abbandonata. Ci sono pure i giovani, ci sono i miei figli, c'è l'ex fidanzata, c'è qualche amico, c'è il CSV, Arturo Bova. La mia città per quella che non è potuta venire me la sono portata nel cuore. In aula dietro le sbarre è anche l'imputato Salvatore Gerace che risponde di omicidio premeditato con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Oggi potrebbe incolociare lo sguardo di Gerace? Non è un problema, lo cercherò io al suo sguardo. Cosa gli dirà con gli occhi? Che non ho paura, che gli farò fare quello che è giusto fino all'ultimo giorno della sua vita in carcere. Esther, la fidanzata di Giuseppe oggi qui per chiedere che sia fatta giustizia? Spero di sì, lo pretendo più che altro, pretendo giustizia. La zia di Giuseppe, stamattina siete partiti tutti insieme da Crotone, qual è l'attesa per questo processo? Il ragazzo è la vita, veramente noi vogliamo il ragazzo è la vita perché nessuno ha il diritto di togliere la vita a un'altra persona. Io che sono la zia, tutti i giorni guardo il mio figlio che è un ragazzo che ha un anno in più di mio nipote e tutti i giorni vedo la vita, i progetti che mio nipote poteva fare. Avevo una vita davanti a sé e dopo il diploma appunto volevo partire per fare alcuni corsi. I fratelli minorenni di Giuseppe e il comune di Crotone si sono costituiti parte civile. Rossella Galati per l'AC News 24. Chiede giustizia la famiglia di Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso a Crotone lo scorso 13 gennaio nella sede dell'Associazione Libere Donne, presiduta dalla madre, Katia Vidirillo, presente in quella tragica circostanza insieme ad altri familiari. Lo ha chiesto con un silenzio assordante ieri sera, durante la fiaccolata per le vie del capoluogo cittadino, in memoria di quel figlio diventato ormai il figlio di tutta la comunità crotonese. Un cammino silenzioso partito davanti il tribunale, che ha attraversato il corso principale, per poi arrivare ai piedi della Basilica Cattedrale, dove non è mancata la commozione durante la proiezione di un video che ha ripreso vari momenti importanti della vita di Giuseppe, insieme ai suoi cari. La vicinanza della città è stata molto importante in questa fase e continuerà ad esserlo anche nella fase successiva, perché adesso inizia la vera battaglia per avere giustizia per Giuseppe. Alla fiaccolata hanno partecipato i familiari di Giuseppe, gli amici e una piccola rappresentanza della cittadinanza. Quasi assente la delegazione istituzionale, presente solo il consigliere comunale Ilario Sorgiovanni e il presidente della Commissione Speciale contro l'Andrangheta, Arturo Bova. Stiamo vicino ai genitori che sono le vittime di mafia, pensa a questa madre, che vita fa a questa madre. Ma quando sorge il sole di ogni giorno e non ha il proprio figliolo, cerchiamo di mostrare che siamo una grande famiglia. Giuseppe Laratta per l'AC News 24. Torniamo adesso ad occuparci dei fermi che hanno fatto luce sull'agguato agli amanti di Gallico, costato la vita fortunata a Fortunio. All'origine il riassestamento degli equilibri mafiosi. Angela Panzera. Dopo le ultime operazioni, le ultime condanne, vi era un vuoto apparente di potere, per cui si cercava di riempire questo vuoto con un'affermazione criminale di questi soggetti. La leadership mafiosa sulla frazione di Gallico. Per la DDA di Reggio Calabria non ci sono dubbi e questo è lo scenario in cui sono maturati il delitto di fortunata Fortunio e il tentato omicidio del suo amante Demetrio Lo Giudice, elemento di spicco dell'omonima Cosca e vero obiettivo dell'agguato. Stando all'inchiesta del Bello Gallico, Paolo Chindemi, il 28enne fermato, con l'accusa di essere il mandante e l'esecutore dell'omicidio, avvenuto il 16 marzo scorso, insieme allo zio Mario Chindemi, a Santo Pellegrino ed Ettore Corrado Bilardi, genero del Mamma Santissima D'Omico Tripodo, aveva costituito un gruppo criminale per conquistare spazi sempre più ampi in quel territorio e alla periferia nord regina. Le indagini della procura antimafia continuano infatti su due direttrici. La prima riguarda lo scenario che ha portato all'assassinio di Pasquale Chindemi, padre di Paolo, ucciso sempre a Gallico il 15 febbraio. La seconda invece mira a definire la genesi del conflitto con Demetrio Lo Giudice, un conflitto in cui è morta Fortunata Fortunio, vittima innocente di una faida andranghetista. Tutte queste ipotesi sono a sbaglio degli investigatori che non si sono certo fermati, non si fermano qua. È un primo passo che si è reso peraltro necessario perché dalle intercettazioni emergeva chiara la volontà di portare a compimento altre attività delittuose. Angela Panzera per la CINUS24 Ci occupiamo adesso della decisione della Cassazione che ha di fatto dato il via libera alla Guardia di Finanza di Genova di mettere i sigilli ai conti della Lega. Potrebbe però non essere ancora l'epilogo di una vicenda giudiziaria che di fatto ha avuto origine dalle indagini calabresi. I soldi che hanno preso via la Lega e investiti in diamanti in Tanzania erano soldi provenienti dal finanziamento pubblico dei partiti che sono soldi delle tasse degli italiani, tutto qua, serenamente. Perfetto. Quindi se ha sbagliato verrà condannato dalla giustizia italiana e se verrà condannato io gli vado a chiedere indietro i soldi che lo Stato aveva assegnato a me come Lega e lui è usato per fare altro. Ecco la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che congela i soldi della Lega emessa sul ricorso della Procura di Genova emessa nei confronti di Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell'Interno. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Salvini, senatore calabrese, leader di un partito che oggi si chiama Lega e che ieri invece era la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. La Guardia di Finanza, delegata dai PM di Genova, può quindi sequestrare ovunque venga rinvenuta a qualsiasi somma riconducibile al carroccio fino all'ammontare di 48.969.617 euro. Sono i soldi della truffa ai danni dello Stato sui riborsi elettorali, soldi che la Lega avrebbe sottratto durante la gestione del senatore Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Franco Belzito. Soldi individuati da chi? Dalla DIA di Reggio Calabria, nell'indagine che l'attuale procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo svolse parallelamente ai colleghi delle procure di Napoli e Milano, quindi di Genova. Il magistrato, che dai mamma santissima di archi all'ex ministro dell'interno, ne ha arrestati a migliaia e che poneva al centro delle sue investigazioni proprio Franco Belzito per i suoi affari con soggetti, in odor di indrangheta. Napoli perse la competenza sulle indagini, Milano e Genova arrivarono ai processi e alle condanne. Reggio Calabria, invece, dopo perquisizione a tappeto, non è ancora arrivata ad uno sviluppo processuale del filone Belzito. Sullo stesso solco è stata sviluppata e portata davanti ai giudici l'inchiesta che ha fatto finire in carcere l'ex ministro, oggi sindaco, Claudio Scaiola, e da cui da anni scappa il suo ex collega Medeo Matacena. Sul filone madre, invece, è calato il silenzio, ma secondo indiscrezioni anche Reggio non avrebbe mai smesso di indagare. Punto a capo. Da Reggio Calabria per la CINUS24. La giunta regionale, riunita in sessione straordinaria, ha approvato un disegno di legge per l'autorecupero di edifici pubblici inutilizzati da destinare ad unità abitative per senza tetto. Il provvedimento adesso dovrà essere approvato in consiglio. In merito abbiamo sentito il presidente Mario Oliverio. Credo che rispetto a questo problema sociale, che è quello della casa, bisogna avere un'attenzione, non si può girare la testa dall'altra parte. Io ho avuto modo di sentire il prefetto sulla problematica dei senza tetto a Cosenza, di chiedere di sospendere ogni atto di sgombero che avrebbe comportato una situazione di maggiore sofferenza perché è in atto un lavoro da parte nostra per dotare la Regione di una legge sull'autorecupero. I beni di proprietà pubblica che sono abbandonati, che possono essere recuperati dai comuni attraverso il coinvolgimento di cooperative di senza casa perché si mettono a disposizione appunto di chi un alloggio non ce l'ha. Il patrimonio abbandonato credo che sia opportuno recuperarlo per una funzione sociale, non lasciarlo nell'abbandono. Questa è la filosofia che ci guida. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha convocato un tavolo tecnico con sindacati, forze dell'ordine e amministratori per fare il punto sia sulla vecchia che sulla nuova tendopoli di San Ferdinando. Per 100 dei 900 migranti distribuiti tra i due siti si apre la possibilità di inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. C'è un fronte che riguarda l'accoglienza dignitosa ai migranti e la riunione di oggi avrà proprio questo scopo. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, fa il punto sulla condizione dei lavoratori migranti della piana di Gioia Tauro. Al Salone degli Stemi è stato convocato il tavolo tecnico permanente con forze dell'ordine, sindacati, associazioni di categoria, regione e denti locali. L'attenzione sull'emergenza a San Ferdinando rimane alta. Permane infatti la volontà della prefettura di sgomberare sia la Baraccopoli che la Tendopoli distribuire sul territorio calabrese i 900 migranti presenti in entrambi i siti. Per 100 ci sono già delle importanti novità in tema di accoglienza e inserimento lavorativo. C'è stato anche un passo avanti e cioè che siamo riusciti ad avere per circa 100 migranti che hanno determinati requisiti il loro collocamento presso i progetti SPRAR. è una notizia buona. Adesso verificheremo se le 100 persone che possono essere collocate nei progetti SPRAR sono disponibili ad andarci e le forze di polizia stanno verificando questa situazione. L'incontro di oggi verterà su tutte queste questioni. Angela Panzera per la CINUS24 Presentato alla Camera di Commercio di Reggio Calabria il rapporto sull'andamento dell'economia nella città dello Stretto per l'anno 2018. I segnali di ripresa sono ancora molto timidi e la disoccupazione soprattutto quella giovanile è il problema più grande da affrontare. Riccardo Tripepi. Il rapporto sull'andamento dell'economia nella città metropolitana per l'anno 2018 è stato presentato alla Camera di Commercio e seppure qualche lieve segnale di miglioramento si riesce a rinvenire la ripresa si conferma troppo debole. E la disoccupazione un problema di dimensioni enormi. Devo dire insomma che i dati relativi per esempio all'occupazione registrano una disoccupazione giovanile al 60% quindi una disoccupazione giovanile altissima una disoccupazione che si attesta scende di qualche punto ma si attesta intorno al 22% sono dei dati che ovviamente sono dei dati nettamente più alti quasi il doppio della media nazionale. Il Presidente Tramontana ha invitato dunque tutti a mettere insieme le migliori sinergie per contrastare il fenomeno. Sono dei dati che comunque devono darci degli stimoli a tutti gli attori che comunque insistono sul territorio a tutti gli attori che comunque possono dare possono contribuire ad una svolta economica della città metropolitana a far sempre meglio a cercare delle sinergie per contrastare questa forte disoccupazione. Per le imprese invece l'obiettivo è l'innovazione. Cercando di innovarle sempre di più quindi cercare di rendere di portare anche al di fuori di quelli che sono il comparto del mercato del locale quindi cercare di internazionalizzare sempre di più le proprie aziende quindi portarle anche al di fuori del paese ma portarle innovate e formate. Riccardo Tripepi per la CNews24 Un'assemblea pubblica per discutere sul tema della bonifica a Crotone l'ha organizzata l'associazione La Collina dei Veleni che ha lanciato anche una petizione online indirizzata al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa condivisa da più di 20.000 persone. Un'assemblea pubblica per discutere sulla bonifica dell'ex area industriale l'ha organizzata a Crotone è l'associazione La Collina dei Veleni che da anni si batte sul tema un confronto con i cittadini su una tematica molto delicata sulla quale si basa il presente e il futuro della collettività secondo gli stessi membri dell'associazione l'attività che Sindial andrebbe a mettere in campo nelle zone contaminate non prevederebbe nessuna rimozione delle scorie Cittadini di Crotone ai quali mi rivolgo devono capire che quello che vorrebbero approvare è una messa in sicurezza quasi totale completa del sito industriale una tombatura mascherata sotto nomi diversi capping cose di questo tipo qua ma in realtà tutti i veleni rimangono vuol dire che adesso inizieremo la lotta per contrastare questa nuova finta bonifica intanto la petizione promossa online destinata al ministro dell'ambiente Sergio Costa interpellato affinché la bonifica sia reale su tutta l'ex area industriale ha raggiunto più di 20.000 consensi da Crotone per l'AC News 24 ancora proteste alla mezzia terme questa volta ad arrivare in comune è stata una delegazione dei VAT volontari ausiliari del traffico il servizio è di Tiziana Bagnato nulla da fare per i VAT i volontari ausiliari del traffico che hanno tentato ad incontrare il commissario prefettizio del comune di la mezzia terme Francesco Lecci per capire perché il loro gruppo istituzionalizzato da un regolamento comunale non venga più utilizzato noi lavoravamo nelle ore più impensabili del tipo noi finivamo il servizio oltre la mezzanotte quando i vigili urbani andavano via alle 21 e noi abbiamo svolto il servizio sotto la pioggia sotto il freddo sotto il sole insomma abbiamo dato un po' del nostro essere non avendo nessun riscontro da parte delle istituzioni i VAT nati nel 2002 sono stati formalizzati dal consiglio comunale nel 2016 prendendo poi forma attraverso un bando pubblico nel 2017 la loro attività si espletava in particolar modo davanti le scuole durante le manifestazioni ma dal 2018 tutto si è fermato è altrettanto anomalo che gli stessi servizi previsti dal regolamento vengono affidati all'esterno la triade ha deciso di non ricorrere più alle loro figure non prevedendone nemmeno la spesa nel bilancio e l'amministrazione tramite il capo della polizia municipale si difende così il regolamento prevede solo esclusivamente quale opzione dell'ente di utilizzare il gruppo insomma è solo un'opzione non è certamente un obbligo Tiziano Abbagnato per la CNews 24 Voltiamo pagina presentata al teatro auditorium dell'Università della Calabria la nuova vettura del team unical reparto corse in gara la prossima settimana nella formula SAE di servizio Eccola la vettura 2018 progettata e realizzata dal reparto corse dell'Università della Calabria un gruppo di 60 studenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale pronto a gareggiare dall'11 al 15 luglio alla competizione internazionale di Formula SAE in programma a Barano de Melegavi nel Parmense tra i partecipanti alla cerimonia di presentazione della monoposto ospitate al Teatro Auditorium ma anche il pilota calabrese della Porsche Carrera Cup Simone Iaquinta devo dire che sono riusciti a realizzare un bel progetto ci sono molti componenti che si usano nelle competizioni ad alto livello e sono anche sviluppati molto bene quindi devo dire che non me l'aspettavo sinceramente quest'anno ricorre il decimo anniversario dalla realizzazione della prima vettura un arco di tempo nel quale il team ha compiuto progressi straordinari nel ranking mondiale oggi occupa la posizione 86 su 500 università del mondo ed è terza in Italia da due anni inoltre vanta la prima posizione tra i team italiani nella prova di accelerazione montiamo un motore tre cilindri Triumph che sviluppa 102 cavalli di potenza per circa 220 kg di peso quindi con un rapporto peso-potenza pari a quello di una supercar ad alte prestazioni inoltre permette un'accelerazione sui 75 metri in circa 3,7 secondi quindi sono prestazioni da una super sportiva di alto livello questa vettura si evolve rispetto a quello scorso anno e ha potenzialmente delle caratteristiche che sono migliorative rispetto a quella della vettura precedente e quindi siamo molto confidenti di riuscire a fare una gara nell'ambito di quello che sono ovviamente le prerogative di una vettura o comunque di una gara di motorsport dove l'imprevisto è sempre dietro l'angolo ma questa vettura sembra avere delle caratteristiche per ben figurare nella manifestazione Salvatore Bruno per la Cineus 24 Andiamo avanti parliamo adesso del nuovo bando regionale destinato alle biblioteche calabresi è stato presentato a Catanzaro Un milione di euro per le biblioteche e gli archivi storici della Calabria e la dotazione finanziaria del nuovo bando da poco pubblicato che scadrà il prossimo 29 luglio presentato alla cittadella regionale a Catanzaro alla presenza di numerosi amministratori e operatori del mondo culturale è rivolto ai comuni quindi alle biblioteche comunali ai sistemi bibliotecari e per la prima volta in questo genere di bandi vengono inserite anche le due biblioteche finanziate con legge regionale riconosciute con legge regionale che sono la biblioteca di Soriano e la biblioteca civica per la civica è un traguardo storico perché in effetti è la prima volta che può partecipare ad un bando regionale le risorse economiche messe in cantiere dall'aggiunta regionale devono riguardare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio libraio documentale e archivistico innalzare gli standard di offerta dei servizi culturali incentivare l'utilizzo dell'innovazione tecnologica e mettere in rete l'offerta culturale una scelta democratica per l'assessore alla cultura della regione Calabria che intende dare la possibilità a tutti di poter fruire del bene libro inteso come forma di arricchimento culturale e di crescita è un'azione che si colloca nella visione più ampia che la regione sta portando avanti che è quella della valorizzazione dei saperi e della lettura in particolare e anche di accesso democratico a tutte le forme di acquisizione e consolidamento della cultura Rossella Galati per la Cinews 24 da Pizzo a Caulonia per incontrare Mimmo Cavallaro il progetto sociale è un sasso nello stagno nella Locride per consegnare un riconoscimento speciale al re della Taranta da Pizzo a Caulonia per incontrare Mimmo Cavallaro il progetto sociale un sasso nello stagno in favore delle fasce più deboli ha consegnato un riconoscimento speciale al re della Tarantella galabrese l'idea realizzata dall'operatrice olistica Tiziana Ceramolo si pone come obiettivo la rieducazione al bello attraverso i diversi linguaggi dal linguaggio dell'arte a quello della scultura della poesia fino ad arrivare al linguaggio musicale che è quello proprio con Cavallaro dove noi tuffiamo e buttiamo questo lanciamo questo sasso oggi c'è soprattutto la denuncia di una situazione che tanta gente affronta ogni giorno in disperato silenzio una situazione in cui un pugno di strutture e associazioni cercano di arginare con pochi mezzi e scarso sostegno pubblico finalmente siamo riusciti a incontrarci qui a Caulonia ma è una cosa che lascia il cuore pieno di gioia anche perché questo simbolo il sasso nello stagno è un messaggio straordinario che loro lasciano alle persone che incontrano ma al territorio Ilario Balì per la Cineus 24 è tutto grazie per aver preferito la nostra informazione prossimo appuntamento questa sera alle 20 e 30 non mancate buon proseguimento visita il sito www.lacineus24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie la Cineus 24 edizione giorno alle 14 e 15 ed edizione sera alle 20 e 30 la Cineus 24 la Calabria che fa notizie